Signori e signori, per voi il nostro Grav, direttamente, pensate un po', è andato fino ad Amsterdam, l'abbiamo mandato là. Ciao Emilianissimo e grazie per la linea. Allora, oggi sono qua per un servizio stranissimo. Pensa che mi trovo al RIC Musemo di Amsterdam. E non so perché, ma da quando sono entrato, mi guardano tutti in un modo molto strano. Ma, chissà perché. Boh, secondo me, sai che ti dico, questi olandesi sono veramente strani. Eh, eh sì. Chissà. Eh sì. Ma che cavolo hanno da guardare tutti? Vabbè, qui dal RIC Museum di Amsterdam è tutto, a te la linea. Ciao Emiliano! Ragazzi, per me è da sbellicarsi, con Grav è da sbellicarsi. Adesso voglio vedere come te la cavi tu. Ho visto che facevi delle facce. Ma ti sei chiesta anche tu perché, insomma, questi olandesi guardavano in maniera così strana il nostro Grav? Te lo sei spiegata? Non lo so. Ma forse il cappello, non lo so. Può essere, può essere. Però è impressionante, riflettendoci. Grazie.